Ciao a tutti cari amici dello Sport Milano 3, nel post partita insieme a Nick Tandoi dopo il K.O. subito in casa contro Galarate, dopo la vittoria amici ottenuta sabato contro Murtara. Per i nostri ragazzi arriva al plus dopo una sconfitta, una sconfitta che però ha fatto vedere che questa squadra quando lotta c'è. Nick? Sì, oggi è stata una partita combattuta fin dall'inizio, poi nell'ultimo quarto, mi sembra verso la fine, sono riusciti ad allungare con un paio di bombe di clerici. Sconfitta che brucia però l'atteggiamento è quello giusto, combattivi, si è stati lì tutta la partita, la prossima volta cercheremo di evitare alcuni piccoli errori che hanno fatto la differenza, ma siamo a inizio stagione e c'è tempo per migliorare. Senti, è una partita che permette di comunque trarre degli spunti positivi, vista anche della prossima sfida di sabato. Sì, sì, assolutamente. La testa è già sabato per Val Ceresio, cercheremo di riscattarci e di portare a casa i due punti. Senti, a livello personale 7 punti, una partita discreta la tua, comunque hai dato il tuo contributo alla squadra. Sì, mi piace pensare che si può fare di meglio, però l'importante è comunque portare a casa il risultato, quindi prima la prestazione di squadra, poi quella individuale, cercheremo di migliorare in entrambe le cose. Ringraziamo Nick Tandoi per essere stato con noi nel post partita dopo la sfida contro Calarate. Ciao, grazie.